un saluto un saluto amici di radio regione ben trovati noi siamo ancora qui ovviamente pronti a continuare a tenervi compagnia con i nostri ospiti io sono beatrice canzette qui con me c'è ivan fiorillo ciao ivan ben trovato un caro saluto a te beatrice alle tue spettatrici ai tuoi spettatori un saluto a te un saluto a te ivan grazie di essere qui con noi grazie mille ma grazie a voi dell'invito siamo qui van diciamo dagli amici che ci stanno ascoltando per chiacchierare un po di un progetto molto molto ambizioso bello interessante che possono trovare intanto su canali social in particolare sulla piattaforma twitch ma anche su youtube facebook instagram youtube insomma un po tutti quanti poi daremo tutti i riferimenti il progetto si chiama podcast fiore perché giustamente come dice ivan per fare un podcast ci vuole un fiore prima di raccontare però che di che cosa si tratta qual è il progetto podcast fiore bisogna fare un attimo un passo indietro ivan e chiacchierare un attimo del tuo libro del libro l'acqua e blu ma non a scuola che è un po l'origine poi del progetto podcast fiore si guarda beatrice questo libro è stato pubblicato per la prima volta nel 2018 perché era la mia tesi di laurea triennale decidemmo di renderla accessibile pubblicamente e dopo mi ha contattato una casa editrice la vertigo edizioni con la quale poi ho lavorato ed è uscito questo nuovo libro una nuova edizione rimodulata riconfigurata e proprio qualche settimana fa quindi una cosa veramente molto recente e pensa che già l'anno scorso era nata una rubrica che era disponibile su un quotidiano online digitale e sul mio canale youtube appunto ivan fiorillo e si chiamava lo scettico bufale e bugie serviva proprio per calare nel pratico ciò che dimostravo all'interno proprio di questa mia ricerca andando a smentire delle notizie false completamente o in parte che venivano divulgate non da siti strani presenti su internet ma proprio ahimè da giornali da televisioni eccetera 20 settimane 5 mesi durata questa rubrica un po per dare come dire il know how per riuscire a divincolarsi all'interno del mondo dell'informazione poi invece a marzo di quest'anno è nato questo nuovo progetto che serve invece per raggiungere piano piano quello che era l'obiettivo finale proprio del libro l'acqua e blumano una scuola ovvero il raggiungimento chissà forse un po utopistico della società della conoscenza all'interno del nostro mondo e quindi con questo progetto di podcast fiore cerchiamo almeno nel piccolo di costruire una piccola comunità della conoscenza fra di noi come dicevamo ivan è un progetto molto ambizioso e molto molto bello perché poi sappiamo quanto dell'informazione di oggi ai noi anche come dicevi giustamente tu prima purtroppo con fake news passa dai social quindi l'avere comunque un una piattaforma come twitch dove potere invece un po scardinare questa questa cosa no di dei social come fonte di falsa informazione ma invece creare un posto per la conoscenza perché poi tratti tante tematiche diverse no nei nei tuoi podcast per cercare un po per tutti i gusti è sicuramente un gran bel messaggio per un po tutto il mondo dei social che invece viene un po ecco tacciato di passare false informazioni anche perché poi ovviamente ivan dietro ogni podcast c'è una grande ricerca c'è una grande un grande studio c'è appunto come dicevamo la la conoscenza ecco della della tematica sì ogni giorno va in diretta questa trasmissione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e questo vuol dire che ogni giorno io sono lì a lavorare ai contenuti che poi porto ai miei spettatori è una trasmissione in radiovisione anche perché si può ascoltare semplicemente in modalità audio e registriamo poi in diretta il nostro podcast settimanale che si trova appunto su tutte le piattaforme di podcast in come podcast fiore è un po il mio gioiellino come dico sempre perché è il progetto del quale sono più ambizioso e del quale sono anche più orgoglioso ecco mentre con lo scettico noi spiegavamo comunicavamo le varie scienze in base alle informazioni che venivano dati appunto su queste piattaforme adesso invece vogliamo andare alla ricerca della conoscenza quindi è un qualcosa di molto più ampio facciamo divulgazione a 360 gradi porto gli spettatori nel dietro le quinte della mia attività professionale settimanale da divulgatore e di fatto sono stato colui che ha portato questi temi legati alla scienza e legati alla tecnologia per la prima volta in maniera continuativa sulla piattaforma di twitch in italia e sono stato addirittura chiamato il fiero angela di twitch perché come lui all'epoca portò questi temi televisione adesso io per la prima volta li sto portando su questa piattaforma della rete e sicuramente è importante sottolineare questo no ivan diciamolo per gli amici che ci stanno ascoltando che ovviamente dietro tutto questo c'è come dicevamo prima la conoscenza la competenza tu hai una formazione anche nell'ambito della comunicazione quindi oltre ovviamente alla volontà la preparazione allo studio poi di ogni singolo podcast c'è anche sicuramente un competenza una formazione di usare poi il mezzo tecnologico nel modo corretto quindi poi chi viene nel tuo canale troverà anche un podcast un prodotto che sicuramente è fruibile ed è ascoltabile ed è digeribile usiamo questo termine che non è forse quello ideale un po da tutti anche da chi magari non è prettamente vicino a queste a queste tematiche però secondo me ancora più importante della competenza tecnica cioè come si utilizza la piattaforma e quali sono le modalità comunicative migliori eccetera invece più importante ancora la competenza dal punto di vista teorico per i contenuti che si vanno a portare e quindi una formazione che abbia a che fare con la scienza con come funziona il mondo della scienza anche dal punto di vista filosofico come si muovono gli scienziati come si pubblica dove si pubblica eccetera e poi cercare di trasformare queste informazioni una volta però che si è condotta un'indagine addirittura ai primordi di ciò che viene pubblicato sulle riviste scientifiche internazionali ecco cercare di tradurlo nel modo migliore possibile per tutte le fasce di pubblico dai più piccoli ai più grandi da chi non ha avuto la possibilità di studiare a chi invece è molto bravo nel proprio campo di campo di ricerca ecco sono molto contento di questo di questa nostra trasmissione perché è un luogo di confronto tra le persone una cosa infatti che ho esperito l'anno scorso con l'altra rubrica era che siccome parlavamo di temi anche molto all'ordine del giorno visto che ci occupavamo delle notizie di ciascuna settimana ecco la gente era veramente molto polarizzata anche se non aveva delle competenze in merito comunque una posizione sempre ce l'aveva relativamente a quell'argomento ed è un po come dire una negazione del nostro obiettivo visto che si chiamava lo scettico lo scettico è colui che prende una posizione solo quando i dati permettono di fare tutto questo e invece questo su twitch è un luogo di confronto sono molto contento della comunità che mi segue perché intanto sono uno zoccolo duro che vengono la quasi ogni giorno appunto a seguire la trasmissione e poi ci confrontiamo addirittura entrano in diretta a parlare con me e io cresco moltissimo dopo ogni puntata e credo anche di dare qualcosa anche a coloro che quindi scelgono di stare sempre dall'altra parte dello schermo ecco per questo sono molto contento di podcast fiore anche perché diciamolo ivan il progresso nasce proprio da un confronto un confronto che sia motivato un confronto che sia consapevole e che sia informato come dicevamo si possono avere opinioni differenti che abbiano però un fondamento ed è quello proprio il il messaggio anche che si vuol dare rispondere un po a quella che è la pigrizia magari con cui si dà un certo tipo di opinione con invece l'informazione che è l'unica cosa a cui ci si dovrebbe appellare ecco soprattutto appunto quando si va a trattare le tematiche eh delicate in questo periodo ce ne sono state tante ovviamente lo sappiamo tutti chiaramente l'appuntamento come dicevamo è tutti i giorni su twitch podcast fiore eh podcast fiore è anche l'hashtag da usare per tutte le vostre domande e curiosità fateci sapere se passate a trovare ivan eh come dicevamo c'è una bella community che vi aspetta eh poi ci sono anche canali ovviamente su facebook edufioriivan su instagram edufioriivan su youtube ivan fiorillo voi navi eh anche lì potete trovare un po tutto quanto chiaramente a disposizione ci sono anche i nostri canali canali di radio regione anche tramite noi potete commentare interagire e ricondividere questo eh questo podcast e l'intervista riascoltarlo ovviamente poi ci sono eh tutti i riferimenti per poter contattare ivan anche tramite noi io ti ringrazio ivan intanto per essere stato con noi grazie grazie a te beatrice vi ricordo che adesso in vacanza podcast fiore ma ritorniamo con la seconda serie a partire dal 13 di settembre assolutamente 13 settembre grazie mille ivan per essere stato grazie beatrice e grazie a tutti voi per averci ascoltato restate grazie a tutti Grazie a tutti.